Stiamo mettendo il biglietto d'ingresso a uno stadio a Canosa di 3 euro che è diciamo alla fine un prezzo simbolico anche perché forse non riesce nemmeno a coprire le spese. Questo perché vogliamo fortissimamente che ci sia tanta tanta gente allo stadio. Il nostro obiettivo è portare il Barletta in Serie D proprio nell'anno del centenario. Beppe Iannone e Michele Lattanzio rispettivamente direttore generale e vicepresidente del Barletta 1922 hanno le idee chiare in vista del campionato di eccellenza che i biancorossi avvieranno domenica 12 settembre ospitando il San Marco. Si riparte dallo stadio San Sabino di Canosa in attesa di tornare a casa. Al Puttilli stanno lavorando, per gennaio dovremmo avere lo stadio quindi ci sarà più possibilità, più visibilità e anche più spettatori, è quello che a noi interessa moltissimo. Dopo il test di Coppa Italia pareggiato contro l'Unione Calcio Bisceglie, mister Farina aveva spiegato che per il miglior Barletta sarebbe stato necessario attendere almeno un paio di settimane. Quest'anno ripartiamo da zero, penso che non ci debbano essere problemi con eventuali interruzioni anche perché alla fine la pandemia è abbastanza controllata, si entrerà con il Green Pass, si entrerà con la capienza al 50%. Penso che comunque non ci siano grossi problemi per quanto riguarda il proseguo del campionato. La speranza è che anche noi siamo all'altezza. Tucci, Pignataro, Lavopa, Vicedomini e Pinto sono solo alcuni dei rinforzi garantiti all'organico bianco-rosso per una rosa che... È fondamentalmente completa, avremo sicuramente forse un altro innesto che naturalmente stiamo cercando ma stiamo cercando un'occasione giusta. Quest'anno ci siamo organizzati forse meglio, organizzati meglio con una squadra competitiva nonostante le difficoltà e speriamo di raggiungere l'obiettivo. Tra i Anders picca invece il ritorno di Nannola, proprio il settore giovanile, è un altro fattore che il Barletta 1922 cura con attenzione. Abbiamo 100 ragazzi dai più piccoli agli juniors e speriamo di portare a breve qualche ragazzo in prima squadra. Ci sono le possibilità. Dopo un'estate di trattative, proiezioni e test, ora si fa sul serio la caccia aperta e quella alla vetta del girone A per una concorrenza che Iannone vede così. Se dovessimo parlare di nomi probabilmente il corato è un pochettino sopra di noi. Io invece sono abbastanza fiducioso anche perché abbiamo confermato il mister, abbiamo confermato una buona parte della rosa. Abbiamo integrato la rosa con elementi validi.